Ciao, benvenuto in questo video dove ti spiegherò in maniera semplice e veloce a leggere un'etichetta affinché tu possa essere pienamente consapevole del tipo di olio che acquisti, della sua provenienza e delle cose a cui prestare attenzione. Grazie a questo sarai libero di acquistare ciò che ti piace senza nessun tipo di condizionamento. Allora, dal 2000 in Italia è vietata la vendita dell'olio sfuso per cui non è più possibile acquistare nei frantoi, non è più possibile acquistare nelle botteghe, non è più possibile acquistare nei supermercati l'olio sfuso, libero, ma solo in confezioni, non so, in lattine, in bottiglie, regolarmente etichettate. Questo perché sulla confezione e sull'etichetta è riportata la tipologia di olio che acquisti, quindi la classificazione e un numero che ti garantisce la rintracciabilità, ossia da dove viene quell'olio, mentre prima questo non era possibile perché nell'olio sfuso non c'era scritto niente e quindi si basava solo sulla fiducia tra il venditore di olio e il consumatore. Un'altra cosa a cui prestare attenzione se sei una persona che ci tiene ad acquistare olio italiano è di non confondere il marchio della bottiglia con la provenienza dell'olio perché spesso marchi italiani, quindi marchio commerciale distribuiscono all'interno oli che non sono italiani, ma sono oli esteri. Niente in contrario all'olio estero, ma spesso molti consumatori associano il nome del venditore, il confezionatore che si trova sulla bottiglia con la provenienza dell'olio, quando spesso il marchio è un nome italiano, mentre l'olio dentro la bottiglia non lo è. Non mi è mai neanche capitato di trovare nei supermercati dei marchi, dei brand commerciali, che ne so, un brand cinese, un brand turco che all'interno della bottiglia vendesse olio italiano, questo a me non è mai successo. Un altro aspetto che è importante valutare è come sia possibile che un olio extravergine di oliva, cioè un olio che rappresenta il top della qualità, possa costare solo 2,99 litro, oppure trovare addirittura delle offerte dove l'olio extravergine di oliva che rappresenta il top della qualità costa meno di altre classificazioni che tecnicamente hanno una qualità inferiore. A questo punto passerei a farti vedere le tipologie di olio che si trovano in commercio in modo da fare una breve carrellata. In commercio si trova l'olio extravergine di oliva, questa è la prima classificazione, che rappresenta il top, il massimo della qualità. Poi si trova l'olio vergine di oliva, che è a un livello inferiore, poi l'olio di oliva, che è un altro tipo di lavorazione, l'olio di salsa. Ecco, concentriamoci su queste 4 classificazioni. Per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva, dicevo prima, rappresenta il top della qualità. Perché? Perché rappresenta una estrazione di olio dall'oliva, ossia l'olio viene estratto per procedimento meccanico, quindi in frantoio. E oltre a questo le olive devono essere buone, altrimenti la legge non dà la dicitura olio extravergine di oliva, per cui un processo meccanico con olive buone. L'olio extravergine di oliva ha dei parametri, dei parametri, dei limiti, cioè che stabilisce la legge entro il quale si può definire olio extravergine di oliva. Ora io non vado a delincarti quelli che sono i parametri che stabilisce la legge, altrimenti siamo qui fino a domattina. Ti faccio solo un esempio, che è più famoso, quello dell'acidità. Se l'olio supera 0,8% di acidità, l'olio non è classificabile come olio extravergine di oliva. Sotto invece è olio extravergine di oliva. Ti faccio un esempio, da 0 a 0,8% c'è 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Ovviamente tutti questi oli sono considerati la legge extravergine di oliva. Va da sé questa piccola riflessione che un olio che ha un'acidità di 0,1% non è sicuramente uguale ad un olio che ha un'acidità di 0,7%, per cui anche nel mondo dell'extravergine troverai tantissime diversità di sapore, di colore. Perché? Perché cambia, c'è questo picchietto che va da 0 a 0,8%, più altri parametri. Quindi non è che l'olio extravergine di oliva è tutto uguale, si trovano diverse qualità di olio. Bene, adesso andiamo a vedere le provenienze dell'olio extravergine di oliva. Come olio extravergine di oliva potete trovare in commercio. Olio extravergine di oliva di origine comunitaria, questo vuol dire che l'olio viene da paesi della comunità europea, come ad esempio Spagna e Grecia. Questo è un esempio dove puoi trovare olio extravergine di oliva proveniente da miscele di olio di olive comunitarie. Oltre al comunitario c'è l'olio extravergine di oliva proveniente da paesi della comunità europea oppure non comunità europea, extracomunitari. In quel caso le olive possono essere lavorate in Tunisia, in altri paesi, diciamo, Marocco, fuori dalla comunità europea. In questo caso trovate olio extravergine di oliva e poi scritto sull'etichetta proveniente da paesi della comunità e non. E non vuol dire extraeuropei. Poi avete olio extravergine di oliva proveniente dall'Italia. La troverete sull'etichetta 100% italiano. Allora, in questo caso possiamo fare una distinzione. Nelle bottiglie trovate confezionato da, confezionato in. In quel caso si tratta di un confezionatore, cioè di un'azienda che acquista l'olio, lo confeziona e lo rivende. Se cercate invece un produttore, troverete in etichetta, ad esempio questa qui, prodotto, qui c'è scritto azienda agricola e poi c'è il paese, c'è scritto suvereto. Nella retro etichetta troverete prodotto e confezionato. Quindi non solo confezionato ma è stato anche prodotto. Allora, in questo caso avete un prodotto italiano che è stato prodotto da una determinata azienda in una determinata località. Quindi questo per quanto riguarda la provenienza italiana. Poi in Italia ci sono varie zone geografiche dove sono nate dei consorsi di rintracciabilità e dei consorsi di qualità, come ad esempio l'IGP Toscano. In quanto riguarda l'IGP Toscano c'è la possibilità per alcuni olivicoltori di iscriversi a questo consorzio e di avere una serie di controlli che garantiscono la rintracciabilità al Consorzatore di Francia, cioè di olive che fanno parte solo della Toscana. Oltre a questo il Consorzio Toscano garantisce anche un certo tipo di qualità, cioè se nel caso dell'extravergine il paletto dell'acidità lo 0,8% nel Consorzio Toscano è 0,6 per esempio. Allora troverete queste fascette con scritto Toscano, perché ogni bottiglia, ogni, diciamo, l'atta, quello che è, è garantita dal consorzio che fa questi controlli. Come nell'esempio dell'italiano c'è anche qui potete trovare olio IGP Toscano, cioè olio che deriva dalla Toscana, preso da un confezionatore, confezionato e venduto, come nel primo caso, oppure potete trovare un olio IGP Toscano, quindi la quale intercciabilità è Toscana, ma che non solo è confezionato, ma anche prodotto, come in questo caso, qui c'è scritto prodotto da, imbottigliato da. Quindi questo per quanto riguarda l'IGP Toscano, il Consorzio Toscano, ma potete trovare anche le DOP territoriali, insomma, altre in Italia ce ne sono diverse. Quindi questo per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva. Poi c'è l'olio vergine, che è la seconda classificazione. Difficilmente, almeno a me non è mai capitato di trovare in vendita olio vergine di oliva. Perché? Perché la classificazione è inferiore all'olio extravergine. Inferiore perché non rispetta quei parametri stabiliti dalla legge per essere chiamati extravergine. In realtà è comunque una frangitura, una spremitura, un olio realizzato attraverso un procedimento meccanico, per cui può anche piacere. Nel senso, faccio per farvi un esempio, quando ho iniziato a fare questo mestiere, il mestiere di Frantoiano, mi frangevo con due impianti, uno moderno e uno tradizionale, così chiamati. L'impianto moderno fatto da ciaio inox e l'impianto tradizionale fatto con le macchine e le presse, con dei dischi, con dei filtri. Ecco, quel tipo di impianto, lavorendo all'aria aperta, utilizzando questi filtri che erano un elemento comune per la clientela, potevano presentare dei difetti organoettici. Oggi, per esempio, il filtro con il quale veniva spremuta la pasta viene chiamato fiscolo e l'olio prende un sapore di fiscolo. Oggi è definito un difetto organoettico, cioè un qualcosa che non lo fa accedere all'extravergine. Prima era considerato un pregio, per cui, per gli anziani, almeno gli anziani che vengono ancora in fronte a me, lo definiscono un pregio, cioè quello che era un pregio prima è un difetto oggi e viceversa. Comunque sia, in vendita io non sono mai riuscito a trovarlo. Allora, la classificazione successiva è l'olio di oliva. Allora, l'olio d'oliva è una composizione, ossia, l'olio d'oliva, lo vediamo qua, ho preso un paio di bottiglie al supermercato. Come potete leggere nell'etichetta, olio d'oliva composto di oli raffinati e olio d'oliva vergini. Ecco il vergine dov'è. Allora, innanzitutto, che cos'è un olio raffinato? Allora, l'olio raffinato è il risultato di una raffinazione, di un procedimento chimico che serve a eliminare difetti e cattivi odori di un olio che in partenza era non commestibile, un olio lampante. L'olio lampante veniva chiamato così perché veniva utilizzato per alimentare le lampade. È la maggior parte della produzione mondiale. Quest'olio viene raffinato chimicamente per eliminare tutti questi cattivi odori e questi difetti. Una volta raffinato rimane in odore, per cui viene aggiunto l'olio vergine. L'olio vergine per dargli sapore e colore. Con la raffinazione, che poi è più nemmeno quella che viene utilizzata per l'olio di semi, è un procedimento ovviamente a norma di legge, con la raffinazione non si perdono quelli che sono gli acidi grassi, cioè gli acidi grassi positivi dell'olio di oliva, per cui la componente salutistica e nutrizionale dell'olio rimane. Chiaramente avrà un sapore molto più delicato degli altri oli che presentano una variabilità naturale differente. L'altra, qui bisogna prestare attenzione, secondo me, sempre al discorso della provenienza. Nel caso dell'olio extravergine o dell'olio vergine, c'è una provenienza e interessa sapere da dove vengono olive, perché comunque sono olive lavorate. In questo caso, trattandosi di un prodotto raffinato, da dove vengono olive non interessa, per cui nell'etichetta non c'è scritta la provenienza dell'olio, ma in alcuni casi c'è il marchio, come al solito, c'è il marchio con la città di riferimento. Per esempio, questa bottiglia presenta, questo è un olio, come puoi vedere, olio di oliva, oli raffinati e oli vergini, questa è la composizione, poi sull'etichetta ci troviamo scritto Lucca, per cui per qualcuno potrebbe essere fulviante vedere, olio di oliva Lucca, uno pensa questo è olio di Lucca, in realtà non è niente a che vedere, a Lucca c'è il confezionatore, cioè colui che compra queste partite d'olio, le confeziona e le rivende. Poi, l'ultima classificazione è l'olio di Sansa, l'olio di Sansa è realizzato da un sottoprodotto della lavorazione in frantolio. Allora, mi spiego meglio, nel frantolio ci entrano le olive e con il procedimento meccanico, con i macchinari, noi separiamo i tre elementi dell'oliva, che sono l'acqua, l'olio e il nocciolo. Allora, il nocciolo, quando si separa attraverso il procedimento di separazione, al nocciolo ci rimane attaccato un po' di polpa, insieme questi si chiamano Sansa. Questa Sansa, che è il sottoprodotto, viene trasportato dai Sansifici, che sono delle industrie, che separano chimicamente l'olio grezzo da questa Sansa. Poi questo olio grezzo viene raffinato, come nel caso dell'olio d'oliva, viene raffinato, ci viene aggiunto l'olio vergine e questo nasce quindi l'olio di Sansa. Questa è la classificazione ultima che ti spiego in questo video. Per cui, come puoi vedere, non tutti gli oli rappresentano il top della gamma. Bene, quindi ci sono tre cose che ti interessa focalizzare su un'etichetta. Chi produce, chi confeziona, chi vende. Queste sono le tre cose che ti interessa vedere e leggere un'etichetta se ti interessa avere il prodotto di una determinata zona, di un determinato produttore, oppure nazionale o comunitario. Quindi, quando la prossima volta che vai al negozio, divertiti, leggi le etichette, compra qualche olio e scrivimi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!